Civil Week 2024, ci troviamo al Parco Trotter, alla Festa dei Popoli, insieme a Tiziana di Lions Club International. Salve Tiziana, buongiorno. Che cosa avete realizzato per questa Civil Week? Allora, per questa Civil Week abbiamo una raccolta di occhiali usati e smartphone usati, che vogliono essere un messaggio per i ragazzini del primo ciclo scolastico, di riutilizzo di materiali e di rispetto per l'ambiente. Riutilizzo i materiali che, occhiale, che a me non va più bene, lo possiamo noi rigenerare attraverso il nostro stabilimento di Chivasso e poterlo destinare a chi non se lo può permettere. Smartphone usati rispetto per l'ambiente, perché le terre rare che sono contenute negli smartphone non vengono buttate nell'ambiente, ma riciclate con un risparmio energetico nello scavo delle nuove terre rare, che è notevole. Quindi siamo qua per sensibilizzare la popolazione e passare un messaggio comunque ai più piccoli di un nuovo modo di essere, un nuovo modo di comportarsi. È la prima volta che partecipate alla Civil Week? Alla Civil Week, sì. Abbiamo avuto dei contatti con il Municipio 2 e è saputo dall'assessore che ci sarebbe stata questa manifestazione e abbiamo colto l'occasione per presentarci. Allora, in bocca al lupo e buona Civil Week. Grazie mille.